E' marzo, la nostra pianta del mese è il garofano, anche noto come fiori degli dei. E' uno dei fiori più noti e presenti al mondo in occasione di feste e cerimonie. E' una pianta perenne che può crescere, nella varietà da taglio, fino a 80 cm di altezza. I suoi fiori singoli o raggruppati hanno un profumo dolce, sono di diversi colori tra il bianco, il rosa e il rosso. Vuoi sapere come coltivarla? Iscriviti per ricevere la scheda di coltivazione e conoscere le prossime piante del mese.